Gli italiani hanno dei depositi bancari importanti, sono proprietari della casa, evidentemente non vivono male e per risparmiare bisogna guadagnare, quindi evidentemente gli italiani in qualche modo guadagnano. C'è anche chi guadagna il nero, ma è sempre meno guadagnare il nero che non guadagnare per niente. E quindi la situazione non è drammatica, è drammatica in Germania, in Francia e in Olanda, dove l'indebitamento privato è altissimo. In sostanza si può dire che il convento sia povero, ma i frati sono ricchi.